Sono contento che possiamo lavorare tranquilli, che è un'altra vittoria per stare sereni, per lavorare ancora per le prossime partite, per fare ancora bene. Diciamo che siamo più coperti dietro, possiamo andare più forti sui uomini. Per me sinceramente è meglio giocare a tre, però questo lo lascio decisamente al mister che decide lui come scendiamo in campo. Sono contento di essere riuscito a interpretare bene un ruolo che non è propriamente il mio. Sono contento di aver dato il mio contributo alla squadra per questa vittoria che in casa ci mancava da tanto. Sicuramente psicologicamente ci libera da un blocco che ci portavamo dietro dall'anno scorso, che vuoi o non vuoi, qualche volta quando andavi in difficoltà ti tornava in mente, magari non ti permetteva di essere sereno e ti metteva in maggiore difficoltà a non trovare il risultato davanti al nostro pubblico.